è passata una tromba d'aria nel nostro aeroporto non esiste più niente volato via tutto carate l'aeroplano lì quello lì il mio quello di Martinelli l'angar non esiste più in mezzo al prato c'è quello di non so di chi è non mi ricordo è stata in cosa una tromba d'aria ha distrutto tutto è passata una tromba d'aria nel nostro aeroporto non esiste più niente volato via tutto carate l'aeroplano lì quello lì il mio quello di Martinelli l'angar non esiste più in mezzo al prato c'è quello di non so di chi è non mi ricordo è stata in cosa una tromba d'aria ha distrutto tutto venmo caducare l'angar e i nostri aeroporto ho trovato giusto ho trovato giusto ho trovato giusto grazie 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 grazie